Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, come state? Mi auguro bene, vi auguro un buon giovedì a tutti quanti voi, primo video di giornata, partiamo subito col botto. Mi tocca farvi venire un po' il mal di testa per parlare dei nuovi, perché Locatelli verrà rinnovato al 2028 e questa è la notizia di ieri sera, si aggiunge quindi al rinnovo di fagioli, poi a breve arriveranno le ufficialità, ma pare che questi due rinnovi insomma sia già tutto fatto. Voglio parlarvi anche degli impatti a bilancio e delle scelte comunque societarie su Locatelli eccetera, sul piano tecnico. Insomma c'è un bel po' di roba di cui parlare, sono curioso di sentire le vostre opinioni. Allora, prima di iniziare, oltre al commento ragazzi, like e l'iscrizione, mi raccomando è importante. Voglio portare tanti format dove verrete anche coinvolti eccetera, ma per far questo c'è bisogno del vostro supporto. Quindi mi raccomando. Allora, parliamo subito di Locatelli, è rinnovato al 2028, sappiamo già che lui è stato acquistato dal Sassuolo con una formula un po' particolare, un prestito biennale, con un obbligo di riscatto, è fissato alla prima presenza di quest'anno qua, è stato pagato 37,5 milioni di euro e questo è il costo di Locatelli. Sono tanti soldi, tanti, probabilmente anche oltre quello che il suo effettivo reale valore, questa col seno di poi la possiamo dire anche per la sua resa. Poi magari fra qualche anno varrà anche di più di quei 40 milioni, però ad oggi non ha dimostrato di avere quel valore là. Però, 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 c'è da dire una cosa su Locatelli, vedo tante critiche secondo me ingiustificate, io credo che lui vada a ricoprire uno dei ruoli un po' più complessi e delicati all'interno dello scacchiere di Allegri. Perché, ve l'ho già detto miliardi di volte, quali sono le difficoltà nella circolazione di palla centro campo, non ci sono linee di passaggio facili. Locatelli spesso deve essere quello là che dà il là alla manovra ed è vero che anche lui ogni tanto tende a nascondersi dalla ricezione palla, eccetera, ma quando ha la palla tra i piedi non ha, secondo me, delle linee di passaggio chiare e pulite. Opta per il retropassaggio, passaggio sugli esterni o deve andare sulla lunga agitata. Io credo che questo ruolo sia complicato da, insomma, fare il mediano-basso regista così è veramente difficile per le condizioni e il contesto, per cui lui viene criticato perché non ha doti tecniche da Juve, secondo tanti, ma le doti tecniche da Juve per interpretare bene quel ruolo in questo contesto qua, e buh, forse le aveva Pirlo, forse, però per il resto, ragazzi, sia veramente una squadra che mette in grossa difficoltà i registi. Non ce n'è andato bene uno, non è andato bene Paredes, non è andato bene... Cioè, se tutti falliscono ci sarà pure un cavolo di motivo da quel punto di vista, vabbè. Mia opinione, poi, ripeto, secondo me Locatelli forse ho pagato un pelo tanto, mi aspettavo un'altra resa, un po' delude, però ad essere sincero, nell'ultima parte di questa stagione ha interpretato delle ultime gare, speriamo che continui così con questa personalità. Detto ciò, dobbiamo tornare a parlare di economia e finanza, perché comunque i costi che ha Locatelli sono importanti. Ha un contratto in scadenza nel 2026 e ha dei costi ammortamenti alti, perché dal momento in cui scatta l'obbligo di riscatto, credo che l'intera cifra dell'operazione poi vada spalmata su questi tre anni, quindi 37,5 diviso 3, banalmente, è un'operazione facile, facile da fare, sono tanti soldi, per cui l'allungamento del contratto consente alla Juve di spalmare questa cifra in 5 anni e non più in 3, e ciò significa abbassare i costi annuali. Se andiamo a vedere nel bilancio 2023 nel dettaglio, vedremo che la voce dei ammortamenti e svalutazioni è la seconda voce dei costi più importanti. La prima ovviamente è quella legata agli ingaggi, che è 282,4 milioni di euro, di cui solamente 255 milioni è legata ai tesserati della Juventus. Ammortamenti e svalutazioni siamo a 179,3 milioni di euro, di cui 146,4 di calciatori e basta. Per cui abbassare queste voci qua, in monti ingaggi è totale di ammortamenti, è importante, perché sono le voci che maggiormente vanno a inficiare ovviamente sulla crescita, sul guadagno, sull'utile, eccetera, eccetera. Creano passivo, pesante, perché poi si aggiungono anche altri costi, tipo costi materiali, costi di servizi, eccetera, eccetera. Ci sono altre cose, costi di gestione dei calciatori, altri costi che non sono specificati, però la Juve diciamo che guadagna 500 milioni di euro, ne spende 660, ad oggi, nel bilancio 2022-2023, questa è la situazione. Per cui c'è da lavorare su queste due voci in maniera importante. Fagioli ovviamente sul piano di ammortamenti a livello finanziario, ragazzi, è zero la sua voce di ammortamenti, è un prodotto che abbiamo in casa. Ed è per questo che si incastra molto bene la politica della Juve legata agli under 23, perché anziché avere 3-4 panchinari dove acquisti il cartellino, che hanno comunque dei costi, molto meglio ogni anno avere 2-3 giocatori dall'under, per metterli in squadra a non avere i costi di ammortamenti, b hai un ingaggio abbastanza basso rispetto al classico calciatore che prendi dalla categoria. Per cui questa è la strada della sostenibilità, la Juve l'ha intrapresa da prima creando un progetto, che è l'under 23, per abbassare quelli che sono i costi. D'altro canto sta intervenendo nell'immediato, cercando di rinnovare i quanti più contratti possibile, perché poi, oltre quello di Locatelli e Fagioli, che pare ormai chiuso, si parla di Sule, che giustamente è un asset che va tutelato, non è che ha dei costi. Però poi sul piano dei costi parliamo di Bremer, Chiesa e Vlaovic, che sono i tre giocatori che secondo me impattano tantissimo nelle voci sia di ammortamento che di ingaggio. Per cui vedremo se sul piano ingaggi la Juventus cercherà di limare qualcosa anche a questi giocatori. Francamente non credo, visto e considerato che sono i tre top giocatori in questa rosa, però ci saranno giocatori che sicuramente ridurranno le proprie pretese, tra cui anche Cito Rugani, che ormai ha un valore residuo bassissimo. Però abbassare banalmente anche il costo dei cartellini, cioè scusate, dell'ingaggio, sarebbe già un ultimo traguardo. Per cui mi pare chiara la scelta della società, questa rincorsa ai rinnovi è dettata soprattutto da una necessità finanziaria della Juventus di risparmiare, di cercare di abbattere determinati voci dei costi. Tutto qua. Al di là della strategia. Poi vi ripeto, rinnovare un contratto non significa nulla. Non significa nulla, nulla, nulla. Significa abbassare i costi in quel momento, trattenere quell'asset e avercelo in mano e avere quindi un po' più di continuità da quel punto di vista. Però sul piano delle cessioni, eccetera, non significa nulla. Vi ricordo che quando la Juventus rinnovò Paul Pogba, poi andò via. Sono tante le storie simili, per cui non c'è da montarsi la testa, ne rinnovi. Ha rinnovato, per cui rimane per forza. No. Se arriva l'offerta, quel giocatore parte, ecco. Un'offerta che sia congrua e che consenta ovviamente la plusvalenza. Che significa? Costo del cartellino, cioè quindi i ricavi dalla cessione, meno valore di residuo. La parte che rimane è la plusvalenza. E quindi vediamo cosa succederà, però mi pare che l'idea della Juventus sia questa. Sta prendendo forma e vi dico, Locatelli è un giocatore che secondo me è importante per la Juve, giusto ottenerlo, giusto dargli fiducia e magari chissà, con un altro allenatore l'anno prossimo renderà meglio. Che ne dite? Aspetto le vostre opinioni sotto nei commenti. Vi mando un forte abbraccio ragazzi e sempre fino alla fine Forza Juve!